ciao a tutti oggi sto facendo i miei vasetti la preparazione dei miei vasetti di peperoncino sott'olio questa è una versione tagliuzzata che già questo è un peperoncino maturato sott'olio un profumo pazzesco e oggi sto facendo un'altra versione sto preparando un'altra versione che lo taglio a rondella che poi lo metterò sotto sale per 24 ore e dopo di che lo scolerò dal sale e lo metterò con l'aceto per altre 24 ore e dopo di che lo metterò col peso per altre 24 ore e il processo durerà circa 3 giorni è una quantità anche sto facendo una quantità anche elevata e se voi ne volete sapere di più vi potete andare sul mio canale Chef Tourist e vi potete iscrivere così se voi vi iscrivete potete vedere il resto potete vedere anche altri video che io farò parliamo del discorso delle nostre conserve adesso il periodo dei funghi delle melanzane e ci saranno dei pomodori verdi ci saranno tante tipologie di video se voi vi iscrivete sul mio canale Chef Tourist e ne potete sapere di più assieme con me e io sono disponibile per voi a rispondere a qualsiasi vostra domanda e dubbio grazie di cuore a tutti voi e buona vita a tutti grazie a tutti grazie a tutti